Sergio Assisi, attore, regista, produttore e scrittore, è da qualche giorno sulla nostra isola con la sua troupe per individuare location adatte per ambientare il suo prossimo film che lo vedrà impegnato come regista ed attore. E' facile essere felici quando si è felici, leggiamo sul seguitissimo profilo Instagram dell'attore conosciuto ai più per la sua partecipazione alla fortunata serie televisiva Capri e come testimonia la foto con lo chef Nando Porcaro non possiamo pensare al contrario. Lo vediamo entusiasta e gioioso tra una pausa e l'altra nella baia più suggestiva dell'isola dove ha letteralmente spalancato gli occhi il simpaticissimo attore davanti a tanta bellezza dominata dall'imponenza del castello aragonese e dagli scogli di Sant'Anna che padroneggiano su acque cristalline dal tipico colore verde. Qui ha gustato tutta la bontà dell'isola tradotta nelle specialità a base di pesce dello chef Porcaro e della sua ciurma. Prodotto dalla Vargo Film, casa di produzione campana con l'intento di valorizzare il nostro splendido territorio, il nuovo progetto cinematografico di Assisi sarà una commedia romantica, le cui riprese inizieranno in autunno e in cui ci assicurano il nome di Ischia sarà sempre ben evidente.